E' venerdì amici di Teleiride, come sempre il venerdì torna l'appuntamento con T-Sport, il nostro focus che proprio in questo giorno della settimana va ad analizzare una realtà sportiva, una disciplina sportiva ogni volta, ogni settimana diversa. E quest'oggi parliamo di basket, lo facciamo in compagnia di Giulio Menicatti. Bentornato nei nostri studi, innanzitutto Giulio. Grazie mille e grazie sempre del vostro invito, è sempre un piacere venirvi a trovare e presentare sempre la nostra realtà e le nostre manifestazioni. La tua realtà che ovviamente è il basket Rignano, società di cui sei fondatore, ma quest'oggi insomma sei qua anche perché la tua società si prepara ad ospitare proprio a Rignano un torneo molto importante, un torneo giunto alla terza edizione, si tratta della città di Rignano che ti vede anche lei tra i fondatori e tra gli ideatori, ma soprattutto insomma sei il cuore proprio della manifestazione, organizzi questa manifestazione ormai da tre anni, l'abbiamo detto, e ogni anno sei riuscito a portare qualche novità, un po' di crescita. Eh sì, diciamo, è nato diciamo per scherzo tre anni fa, quando decidemmo di provarci anche noi, visto che siamo una realtà che gira l'Italia a fare i tornei, a giro insomma per tutta l'Italia intera e abbiamo così deciso di fare anche a Rignano un evento simile, fu, nacque per scherzo, sembra ieri, sono già passati tre anni, siamo già alla terza edizione, ogni anno cresciamo e anche quest'anno c'è una bella macchina imponente, organizzatrice, siamo quattro persone che dal mese di novembre sono prese con tutti i dettagli, nei minimi dettagli per tutta quanta l'organizzazione e che dire, siamo vicini all'evento perché manca 15 giorni, siamo pronti, speriamo insomma che sia un'ottima riuscita, un'ottima manifestazione nella nostra cittadina. Intanto vediamo alcune immagini delle precedenti edizioni, tornerò che quest'anno si svolgerà a Pasqua, mi spiegavi insomma anche per facilitare l'arrivo dei ragazzi che altrimenti avrebbero gli impegni scolastici. Sì, quest'anno abbiamo fatto diciamo questa scelta di spostare dal 25 aprile che era diciamo la data delle precedenti edizioni al Ponte Pasquale perché la categoria che quest'anno di spostare al torneo è l'Under 15 e l'Under 15 non avendo ponti scolastici all'infuori della Pasqua siamo stati anche quasi obbligati a porre le date pasquali per lo svolgimento di questa manifestazione. Quest'anno rispetto alle annate precedenti come ho detto è Under 15, so per l'annata 2004. Siete cresciuti in realtà. Sì perché le prime due edizioni furono Under 14 e quest'anno abbiamo dato l'opportunità ai ragazzi Under 15 di poter disputare questa manifestazione perché la squadra Under 15 è una squadra che quest'anno ha fatto un accordo con il basket di Don Bosco Figline e si è unito le due entità e abbiamo svolto il campionato Under 15 mettendo insieme queste due realtà. Tra l'altro tu sei l'allenatore della squadra Under 15 quindi poi magari torniamo ad analizzare un po' anche la tua squadra e il cammino che avete fatto in campionato intanto vediamo tante realtà che sono venute a trovarvi nel corso delle due precedenti edizioni abbiamo visto l'Argine Vicenza ma sono tante le squadre davvero da fuori regione che andavate a prendere a portare a Rignano adesso però mi hai detto Giulio adesso cominciano a chiamare dovete fare i buttafuori quasi sì adesso iniziano a chiamare loro per poter partecipare alla nostra alla nostra manifestazione insomma vuol dire sono sono venuti volentieri vuol dire che la cosa sta girando la parola insomma sta girando che è stato organizzato delle buone cose che si trovano bene le squadre che hanno partecipato insomma per noi è lodevole ci fanno sono tutte situazioni che ci fanno andare avanti con sempre più entusiasmo nella nostra attività non solo per il torneo ma in tutta l'attività durante l'anno insomma per lo svolgimento della stagione sportiva ecco senti dicevamo tante squadre da fuori regione 11 quest'anno sì tutte quest'anno tutte da fuori su 12 squadre noi siamo l'unica toscana diciamo padroni di casa sono tutte da fuori ci sono delle new entry e squadre che società che è la prima volta che vengono nel nostro nel nostro territorio ma anche squadre che ormai sono vengono da da due anni oppure da solo dall'anno scorso insomma va benissimo ecco senti torneo che qualitativamente si è innalzato già l'anno scorso direi io insomma ho seguito la prima edizione ho seguito la seconda direi che si è già visto un miglioramento per quanto riguarda proprio la qualità di basket offerta sì il livello già dall'anno scorso è un bel livello ci sono squadre eccellenza plasonate l'olimpia roma la vanoli cremona il favaro veneto l'isola vicentina ci hanno sono delle bellissime realtà giovanili che lavorano bene insomma anche fanno tutte le campionate eccellenza però ci sono anche delle belle squadre elite delle belle squadre che lavorano bene con i giovani e questo portare questa realtà qui per noi è molto importante perché anche nella nostra realtà far vedere chi lavora con i ragazzi in un certo modo è un modo per un segnale da dare insomma a chi viene a vedere la manifestazione importante che poi possa prendere spunto anche per il lavoro che deve fare nelle proprie nelle proprie compagine le proprie società ecco sicuramente poi avere ospiti squadre importanti come la vanoli cremona da un bagaglio di esperienze in più e prestigio a a tutto il torneo peraltro insomma vanoli cremona che proprio in terra di toscana si è tolta la soddisfazione di vincere la coppa italia proprio quest'anno mi dicevi che insomma avete ampliato l'offerta del torneo anche con un sacco di iniziative poi collaterali al mondo del basket perché la toscana è bella e va visitata si abbiamo si è collaborato anche lì a rignano con la proloco che si è resa disponibile per quanto riguarda le persone al seguito i genitori al seguito con delle visite guidate a delle cantine a delle a degli scavi archeologici per dare per far conoscere la nostra il nostro territorio ai piedi di firenze non solo come aspetto sportivo all'interno dei palazzetti ma anche come aspetto culturale con delle visite guidate sono coinvolti anche negozianti notizie di pochi giorni fa insomma allestiscano durante il torneo le proprie vetrine dei propri negozi inerenti ai colori della nostra società e ai colori della manifestazione insomma c'è un coinvolgimento a 360 gradi da parte di tutti e che questo per noi è quello che noi volevamo coinvolgere sempre di più il paese e sempre di più le persone che gravitano non solo nello sport ma anche all'interno del paese stesso dal punto di vista turistico ecco e adesso volevo parlare proprio della tua squadra tua squadra perché ti dovrai smettere i panni dell'organizzatore e raccontarci invece come stai lavorando in quelli dell'allenatore perché appunto la squadra under 15 è quella che tu stesso alleni è quella che prenderà parte al torneo ma mi piace quello che stavi dicendo prima a proposito proprio del coinvolgimento di tutto il paese perché insomma spesso abbiamo parlato anche a telecamere spente del fatto che 12 anni fa hai cominciato questo percorso hai fondato questa società e oggi c'è un coinvolgimento davvero di Rignano a 360 gradi ce l'avete fatta tra virgolette? Siamo siamo contenti perché se penso a 12 anni fa quando per la prima volta arrivai a Rignano sull'Arno essendo io un san giovannese e portai la pallacanestro occhio perché c'è una bella rivalità in un territorio dove dove la pallacanestro non c'era che siamo nati veramente da zero e si è passato anche momenti non facili anche per inesperienza come ci troviamo tante volte di fronte anche a momenti che siamo anche inesperti a volte nel gestire tante situazioni però ci siamo fortificati ci siamo tante aziende locali ci hanno sostenuto ci hanno dato una mano e ci hanno permesso di credere in questo nostro progetto in questo nostro sogno che all'inizio ero solo io sicché potevo dire parlare in prima persona ora non sono più solo è diventato il sogno di tanti soprattutto per i ragazzi più piccoli che che vengano e vedano che davanti a loro ci sono le under 18 l'under 16 l'under 15 che devono prendere spunto e devono prendere e continuare il loro cammino seguendo le orme di quelli più grandi sicché questo è un percorso iniziato 12 anni fa è poco perché 12 anni per una realtà sportiva è poco però i segnali sono tanti e il percorso da fare è ancora lungo però c'è tante buone monetizzazioni tante tanta voglia di fare soprattutto anche in chi mi circonda e nelle persone in primis di Antonio Bencista che insieme a me tutti i giorni gestiamo le tante situazioni che tutti i giorni dobbiamo affrontare ecco e sicuramente insomma i numeri sono dalla vostra parte intorno ai 100 atleti che fanno parte della vostra società già otto squadre che sono appunto sotto il nome di Rignano Basket dai parlaci un po' però della tua squadra l'under 15 la squadra che quest'anno alleno io è un binomio come ho detto prima tra due realtà tra noi il Don Bosco Figline questo deve essere anche un segnale importante perché oggi nel mondo di oggi fondere a volte mettere insieme i ragazzi di due entità è difficilissimo soprattutto nel nostro territorio ognuno cerca di stare nella propria realtà e difficilmente ampliarsi questo è stato un binomio importante è stato un binomio di grande crescita anche per i ragazzi perché così abbiamo ampliato numericamente la squadra under 15 perché erano due squadre e corte di numero e soprattutto è stato un inizio di una buona collaborazione con il Don Bosco Figline questa collaborazione si è ampliata anche per il torneo perché sei partite sulle 28 e che disputeremo durante la manifestazione vengano giocate nel campo del Don Bosco Lea Figline e alla palestra Vasari sicché non si è ampliato solo la squadra under 15 ma anche questo la manifestazione coinvolge anche questa collaborazione ecco senti l'under 15 che per l'occasione io non potrò allenare perché sono il commissario e uno dei quattro gestori del torneo però l'allenerà bravi in bravissimo allenatore che è Simone Basciano che ha sostituito e nel mese di dicembre Alessandro Sogli che per una chiamata in serie a due femminile ci ha lasciato andando da prodare ad Orvieto e Simone Basciano ha preso le redini che erano state di Sandro Sogli prendendo in mano la squadra under 16 e la squadra under 18 e per l'occasione allenando l'under 15 che sicuramente si troverà bene e farà un buon lavoro ecco. Under 15 impegnata mi dicevi nella Coppa Toscana giusto? Sì siamo nella Coppa Toscana è una squadra che deve ancora tanto lavorare siamo abbiamo tanto ancora da crescere e non abbiamo non siamo arrivati nelle prime due posizioni e ci permettevano di andare a fare la fase del titolo ma va bene lo stesso sicché siamo a lottare per i primi posti del girone della Coppa Toscana però insomma va bene l'importante è crescere i risultati verranno in futuro ecco. E allora mentre vediamo ancora delle immagini belle perché fanno vedere lo sport dei più giovani scorrere Giulio siamo davvero in chiusura quindi voglio che tu ricordi per filo e per segno tutto l'appuntamento del torneo città di Rignano quando comincia quanto appunto si fermeranno queste squadre di basket nel vostro territorio? Sì inizia dal 19 al 22 aprile dal venerdì al martedì di Pasqua ci sono le tre partite il venerdì perché sei cinque squadre arrivano il venerdì facendo tre giorni facendo quattro giorni scusate fino al giorno del 22 che è il giorno di Pasquetta dove ci sono le finali alle 15 la finale prima e secondo posto e a seguire tutte le premiazioni con le varie autorità insomma i presidenti vari e che do da queste telecamere già un invito a tutti sportivi e non solo che se quei giorni siete sono a casa insomma e decidono di passare un paio d'ore nel mondo dello sport viniate a Rignano che sicuramente il divertimento è assicurato e si vede un bella immagine di sport di spettacolo di pallacanestro in questo caso ma di sport in generale vedendo questi ragazzi giovani darsi da fare e vedendo anche dei belli atleti e dei bei giocatori di pallacanestro. Giulio Menicatti, Baschetti Rignano grazie per essere stato in nostra compagnia l'appuntamento con T Sport termina qua quindi ovviamente l'appuntamento è per il prossimo venerdì sempre alle 18.55 sempre per un altro approfondimento sul mondo dello sportivo. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.